Monteforto Irpino il 9 agosto, Castellabate ed Agropoli una settimana fa, Ischia qualche giorno fa. La campagna negli ultimi mesi si è mostrata estremamente fragile dal punto di vista del distresso idrogeologico e se in Irpinia, nel Cilento, per fortuna le lacrime di morte non si sono unite alle lacrime dello sconforto, a casa Micciola purtroppo si piange anche per le vittime. I giorni che seguono le tragedie sono sempre densi di pensieri, polemiche e parole su quello che si sarebbe potuto o dovuto fare per evitarle. E la domanda che sempre più spesso ci si pone è chi sarà il prossimo? L'isola di Ischia è solo uno dei tanti punti nevralgici della mappa del rischio idrogeologico in Campania. Per le sue peculiarità morfologiche, più della metà del territorio regionale presenta infatti situazioni di potenziale criticità. Dei due versanti è la penisola sorrentina, quelli cioè che si affacciano rispettivamente sul golfo di Napoli e su quello di Salerno, al Cilento, da Sarno e alcune aree del Casertano e ancora dalla Vellinese al Sannio. Sono tante le aree nelle quali si potrebbero registrare eventi catastrofici come quello che ha seminato lutti e distruzione sull'isola verde. Per avere il polso della vastità del territorio maggiormente esposto al conseguente dei fenomeni atmosferici, basti ricordare che questo è pari al 60,2% del totale in tutta Italia, la percentuale delle aree a rischio è invece del 19,9%. Nell'elenco delle regioni tuttavia la campagna risulta al quarto posto dopo il Veneto, la Sicilia e il Lazio, ma è tuttavia quella con il più alto numero di edifici a rischio frane in area a pericolosità molto elevata. Gli ultimi dati disponibili e elaborati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ossia l'ISPRA, evidenziano anche che il pericolo delle frane risulta elevato, molto elevato, nel 19,6% del territorio regionale a fronte dell'8,4% nazionale. I picchi più elevati di rischio si registrano in Irpinia e nella provincia di Salerno, con il 23,3% e il 22,5% di territorio, potenzialmente interessato dagli effetti devastanti di alluvioni o frane. Insomma, i dati di certo fanno riflettere sullo stato del territorio in cui viviamo e come sempre in questi casi affidarsi alla speranza di non rivedere più certe scene e non basta più, bisogna davvero agire e fare qualcosa di concreto. Non riuscire con i piedi a terra! Allora... Grazie a tutti.